Era la prima volta che mi trovo precipitato in una cosa di questo tipo, ho trovato le simbianze di questo personaggio, a cui do la voce, non so come chiamarvi, non è un disegno, non è un po' pazzo, è un uomo, è un essere umano, è un essere umano, un vaginario che riguarda un po' nella fisionomia Afri-Bogart, allora ho cercato di ricordare un po' Paolo Ferrari quando dobbiamo Afri-Bogart con questa voce un po' sancra, un po' rauca, un po' e spero che funzioni. Funziona alla grande.